Rosario Crocette è candidato alla presidenza della regione siciliana per il Partito Democratico, l'Udc e i socialisti, un poco di forze che l'appoggiano, compresi i movimenti. Cominciamo subito dalla battuta che abbiamo fatto partendo. Questi sondaggi, lei dice che è avanti? Ci sono due elementi che bisogna tenere conto. Uno è quello del fatto che non è considerata la mia lista, che è una lista che ha personalità indipendenti, che vengono dagli ambienti di centro, moderati, eccetera, e quindi nel mondo cattolico, e quindi questo porterà un valore aggiunto non indifferente alla mia lista, cioè alla mia candidatura. L'altro elemento è la progressione con cui io sto crescendo. E poi c'è stata un'operazione, anche questa che veniva considerata azzard, che era quella del rapporto tra PD e Udc. Oggi sono candidato dei movimenti, del PD, dell'Udc, dell'API, dei socialisti e di tanta gente che ha deciso di scendere nelle nostre liste, in tutte le liste. Guardate, quello che sta caratterizzando le nostre liste è la fuga dagli ambienti di centro-destra, che è notevole, che non sono nella lista crocetta presidente, ma sono nell'Udc, sono anche nel PD, E questo non le crea rapporti con il suo partito? Dico, quello che sta accadendo ad Enna nel partito democratico forse è un segnale di qualche... Cosa sta accadendo a Enna nel partito democratico? Sta accadendo che ci sono delle componenti del partito democratico e vorrebbero essere rappresentate in lista PD o anche lista crocetta, e il partito democratico fa qualche moina interna. Io penso che quella sia una vicenda tutta locale, che credo verrà risolta. Quando parliamo addirittura degli scontri dentro i partiti e parliamo di correnti che si collegano su posizioni diverse, debbono capire che io non sono per dare la prevalenza a questa o a quella corrente. Un candidato a presidente deve ragionare con tutti. Certo, la storia di Enna è vecchia, non è che è una novità. Diciamo che è un problema del PD in generale. C'è stata in tutte le elezioni, fino al punto che, per esempio, quando c'è stata la candidatura di Anna Filacchiaro, poi la lista del presidente lì non si presentò. Io voglio rassicurare tutti quanti che la lista del presidente lì si presenterà, come si presenterà in tutte le province. E lei ci dice chi sono i candidati della lista crocetta in quella zona, ad Enna? Saranno candidati forti, questo è sicuro. I nomi non li vuole fare. Che corrono per il cuore, però non mi sembra che io faccia i nomi in una fase in cui si sta ragionando. Voglio dire, è come se io volessi contribuire a creare delle difficoltà. Io sono per costruire la pace, non per costruire le guerre. Fra i suoi alleati c'è l'Udc, che è stato anche il partito ispiratore della sua candidatura. Che rapporto c'è con l'Udc? Quanto penserà nel suo governo? Io ho un rapporto con l'Udc splendido, devo dire. Splendido perché sto riscontrando in quel partito una lealtà molto forte che comincia da Cassini e finisce ad Elia. Con questi due dirigenti c'è un rapporto veramente sincero in cui ci confrontiamo quotidianamente sui programmi, sulle cose che dobbiamo fare. Non mi hanno creato problemi sulle liste. Quanto stiamo verificando tutte le candidature sulla base del codice etico. Questo lo sto facendo anche con il Partito Democratico e anche con le altre liste, ovviamente. Invece ci troviamo di fronte a qualche candidato che dice, il candidato della destra, dice io farò il pane con la farina che ho a disposizione. Ma quando si dice farò il pane con la farina che si è a disposizione, si dice che si imparca a tutti. Noi non imparcheremo tutti. Lo vedrete anche nelle liste su questioni dove noi non abbiamo. A giorni presenteremo il nostro codice etico, che è molto duro, ma sulle questioni dove noi individuiamo una violazione del nostro codice etico, lì non ci saranno candidati. Quindi faremo il pane con la farina buona, selezionata perlomeno. I programmi. Nell'intervista che lei ha rilasciato al Sud ha accennato al problema, al tema della burocrazia regionale. I dirigenti regionali che immobilizzano, se è possibile, più di quanto non sia già di per sé, l'ostruzionismo politico per certi versi, la macchina amministrativa della regione. Come si fa a risolvere questo problema, considerando i ritardi negli impegni di spesa europei? Noi quando analizziamo la macchina burocratica della regione, lì dobbiamo fare un'analisi corretta. Sappiamo che c'è tanta gente che in questi anni è stata messa da parte. E magari è stata messa da parte in nome delle consulenze private, 32 consulenti per assessorato. Quando a volte dentro la macchina regionale abbiamo le risorse, per cui lì abbiamo anche una parte della burocrazia che non si sente valorizzata. E si sente discriminata in nome di un dispendio delle risorse pubbliche. Allora la prima questione è che noi dobbiamo utilizzare coloro che vogliono lavorare e che vogliono seriamente collaborare. L'altra questione è che dobbiamo mettere un sistema di incentivi e di penalizzazione. Fatto X, lo stipendio, un dirigente, un funzionario, noi dobbiamo avere una variazione in cui il premio di produzione, uso questo termine, il premio di produzione, come se lo si sa in una fabbrica, va dato solo se raggiungi, vai oltre le performance medie che ti vengono assegnate. Ogni funzionario, ogni dirigente, ogni impiegato deve avere un carico di lavoro assegnato chiaro e preciso. Ma se poi abbiamo i dirigenti o abbiamo i funzionari, come è avvenuto sull'eolico o sul solare, che rubano, perché sono stati alcuni arrestati, poi non possono rimanere nel loro posto di lavoro. Su questo io sarò categorico. Post Lombardo, la domanda delle consulenze viene fatta apposta a questo punto. Si sente di prendere un impegno? Avrà un tot massimo di consulenti come Presidente della Regione? Allora, intanto io ritengo che le 32 consulenze per assessorato debbano diventare 2-3. Poi, per quanto riguarda incarichi e consulenti, dovranno essere di grandissimo livello. Capisco che possono esserci le persone che uno affida nel proprio staff di fiducia, perché quello mi sembra indispensabile per poter operare per qualsiasi carica pubblica. E lì la legge lo prevede. Però, fatto questo, non ci potranno essere questi consulenti a pioggia, diffusi, che servono per accontentare le clientele politiche. Assolutamente, lì saranno tagli netti, però è chiaro che se uno vuole fare il progetto della Silicon Valley, è chiaro che chiamerai un esperto di livello internazionale. Le faccio un'altra domanda, sono due in una. Si è parlato a lungo del rischio default per la Regione Siciliana, dei conti disastrati. L'Udc è stata uno dei principali sostenitori di questa tesi, nei giorni convulsi in cui Lombardo e Armao si sono confrontati con Monti, in attesa che si svolgessero queste elezioni. E l'altra riguarda un allarme lanciato dal Lance, proprio oggi sui giornali, decine, se non centinaia di aziende, forse anche di più siciliane, che falliranno. E' banale porre la domanda in questi termini, ma c'è una ricetta economica per invertire la tendenza siciliana? Io lo denuncio da mesi questa vicenda della crisi delle imprese, quindi la penso esattamente come Lance. Perché noi in tre anni abbiamo una rinunzione degli appalti del 70%, abbiamo un incremento del 18% dei disoccupati, i giovani, l'esoccupazione della giovanile del 18%, quindi è un disastro. Non è che è un disastro annunciato. Il rischio default non si capisce bene se è legato, perché lì veramente dovremo avere possesso dei numeri veri, perché è lì dovremo fare una ricerca e anche persino un'ispezione, perché saremo rigorosissimi. Se è legato alla crisi di cassa, cioè legata al fatto che lo Stato non invia le risorse alla regione, oppure c'è qualcosa di più strutturale. Io credo che ci siano delle cose, insieme al problema della cassa, alcune cose strutturali ci siano. E le cose strutturali che ci sono, sono legate in qualche modo agli sperperi. Quindi vanno riviste tutte queste cose, lì dovremo fare un bilancio che tagli i privilegi delle cricche. E invece vanno incrementate le spese in alcuni settori che sono importanti. Io per esempio penso che la scuola e le culture siano veicoli di sviluppo. Una legge per il diritto allo studio? Certo, quando dico che dobbiamo incrementare le spese per la cultura, dobbiamo dire che dobbiamo fare una legge sul diritto allo studio. Ma quando parlo del diritto allo studio cominciamo per esempio dai libri. Non è che la regione può mandare ai comuni il contributo per i libri alla fine dell'anno, perché i ragazzi a volte non riescono a comprarseli. Bisogna creare i laboratori linguistici per esempio. Io nella nuova scuola siciliana penso che bisogna uscire con due linque straniere che si imparano allo stesso livello quasi della linqua italiana. Cioè penso anche allo studio della storia e della letteratura siciliana. Parlare di dialetto in scuola è una cosa demagogica. Penso a una scuola che si leghi alla formazione post-scolastica. Dal diploma e dalla laurea noi dobbiamo dare soluzioni formative che inseriscono nel lavoro. In questo quadro io vedo un accordo fra enti di formazione, scuole, università, centri di ricerca e anche aziende. Nel senso che immagino una formazione, una scuola che si conclude con stagi formativi che vengono curati dentro le scuole e nelle fabbriche, nelle aziende. Perché il problema che rimbora spesso dai ragazzi è quello di non avere un curriculum. Se noi rimandiamo a fare un anno in un'azienda diamo loro un curriculum, ma non solo. I formatori andranno presi anche di nuovi, andranno presi secondo le graduatorie che ci sono nel mondo della scuola. Perché non è che possono essere la formazione in mare alle clientele. Mentre ci sono gli insegnanti, apro un capitolo. Io non sto dicendo che dobbiamo licenziare quelli che ci sto. Dico che man mano che noi assumiamo formatori, invece di fargli scegliere ai partiti politici tra i loro amici e i loro parenti, dei deputati, dei dirigenti della regione, facciamolo invece, prendiamolo sulle gradatorie che la Germini, degli insegnanti che la Germini ha buttato fuori. Ha sbattuto fuori e io trovo una cosa allucinante questa. Anche negli ospedalisti dovrà lavorare con le regole. Perché un chirurgo o il direttore di un reparto di cardiologia non deve essere scelto in base ai titoli, ma viene invece scelto sulla base dell'amicizia che ha con la politica e si trasforma la sanità siciliana nella più spaventosa macchina clientelare che sia stata mai creata in Sicilia e in Italia e con una macchina che è stata per anni in mano alle clientele e alla mafia. Questo va zerato. Si dovranno premiare le capacità. Grazie.